In questo momento qualificato, tutto parte da Pelli Micoli che qui è stato egoista ma Gonzales ha trasformato in oro quello che era stato l'ingenuità di Micoli Abbiamo bisogno di questa giocata, abbiamo bisogno di fare il gol probabilmente avremo un giocatore molto più motivato, molto più lucido nella seconda parte di gara